Buongiorno a tutti. Come sappiamo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre scorso sono state sospese tutte le procedure concorsuali, salvo quelle relative al settore sanitario o quelle per cui è possibile procedere tramite semplice valutazione di titoli o a distanza. Quindi tra le procedure sospese vi è anche quella relativa al concorso straordinario di scuola secondaria che con nota ministeriale del 4 novembre appunto è stata sospesa fino al prossimo 3 dicembre. Si aspetta quindi da un momento all'altro, da un giorno all'altro l'emanazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che presumibilmente prorogherà la proroga della sospensione del concorso quantomeno per altri 15 giorni o comunque fino a fine anno. Ho tenuto conto che ancora le condizioni della pandemia nel nostro paese non si pensa possano consentire una continuazione della procedura concorsuale in piena sicurezza. Quindi al momento chi è riuscito a svolgere le prove prima della sospensione comunque sa che le stesse verranno regolarmente corrette così come più volte enunciato dallo stesso Ministero. Mentre chi non ha potuto partecipare alle prove scritte per motivi legati alla malattia da Covid o comunque ad una condizione di quarantena potrebbe sperare in una sezione suppletiva d'esame. Sappiamo infatti che il Tarlazio la scorsa settimana ha disposto in via cautelare la predisposizione di una sessione suppletiva d'esame per chi per motivazioni oggettive non era riuscito a presentarsi il giorno della prova scritta per lo svolgimento della stessa. Sappiamo infatti che sono migliaia i candidati che o perché in quarantena fiduciaria o in quarantena obbligatoria o addirittura perché ricoverati a causa del Covid quindi per motivi oggettivi non hanno potuto partecipare al concorso. Il Ministero ha da sempre negato la possibilità di svolgimento di una sessione suppletiva d'esame tuttavia come abbiamo detto il Tar del Lazio ha previsto questa possibilità ordinando al Ministero di predisporla in un momento successivo quando la fase di emergenza sarà esaurita. Ma a questo punto ci si attendono sicuramente ricorsi da parte di chi appunto si è visto impossibilitato a partecipare alle prove però non è detto che il Ministero tenuto conto della pronuncia del Tarlazio non apra alla possibilità di svolgimento di prove suppletive per tutti. Vedremo. Arrivederci. Grazie.